Per primo ho riscoperto me stessa e sono contentissima e poi tutto intorno a me è cambiato e tutta la realtà ha cambiato, i genitori ha cambiato, la famiglia, mia figlia soprattutto per primo e ne sono molto fiera. No, la domanda chiave per me è questa, ma come ho fatto vivere fino adesso?